Sono stufo di pedalare Allora faccio l'autostop questa mattina Buon uomo che mi porta la garbatella Venga salga L'accompagno io per un pezzo Ultima giornata qui a Roma Ce ne andiamo in macchina in centro Come i signori Lusso oggi Lusso c'è anche l'autista qua Il grande Marco che mi ha ospitato alla grande a casa sua Quasi che ci mettevo proprio le radici Lì non ne venivo più via Ieri sera come vi ho detto Abbiamo mangiato di brutto Siamo scassati E niente oggi girettino in centro Grigia Spaghetto a vongole Cicoria ripassata E coda la vaccinata Servite da una simpatica ragazzetta Simpatica ragazzetta con un leggerissimo accento romano Dobbio innamorata di tutti perché amore 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 a tutti quanti E adesso si va per Garbatella E da lì si parte per un giretto Per un giretto verso il centro Insomma Bomba Poi ci salutiamo E io mi prenderò il treno per Pescara Alle 4 e 40 Ben detto Speriamo non mi facciano storie per la bici Perché ci sono un po' di grane col covid E ci si vede nel prossimo appuntamento Adios amigos Saluta Marco Il giorno di riposo che doveva essere ieri lo stiamo facendo oggi Siamo sempre fermi Lui beve acqua perché ha bisogno di reidratarsi con tutta la pedalata che ha fatto oggi Stiamo aspettando Ha pedalato dal cortile alla macchina Tipo 12 metri Eccoci Stiamo qua fermi dai Senza che partimo Così ti prendi un caffè qua dai E te l'ho mandata Vai Dico che oggi secondo me Roma neanche me la fan vederti ragazzi Alle 4 e 40 c'è il treno Qua siamo a quasi le 2 E siamo ancora qui in ciclofficina a tripolare Come si dice dalle nostre parti Altri vent'anni ci puoi fare Beh ragazzi Questi sono proprio vent'anni belli Dai Ti davvero le bici le porti a conclusione Io devo essere stremata E deve ancora andare Non preitavo il consumo E deve ancora andare Oh ma vent'anni sei Ma adesso sto mozzo che è? StxRc Prima del Deore Gira ancora È un LX questo Ma dai poti vent'anni Poi dalle vent'anni Tutte le tempere Ma guarda io poi a me ci piove a me Sono pazzi stiro Gli stanno facendo andare come un pazzo Stiamo riusciti a partire Eccoli di nuovo all'opera Pit stop davanti al semaforo Ho portato fuori la garetta oggi Ho trovato anche l'uomo da battere Per il morale E lui E lui è scarico Non ci lascerà a battere così facilmente L'ho preparato un anno Anche lui l'ho preparato un anno Ha fatto la revisione alla bici adesso Siete dei criminali Ciao a tutti 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 Salutato K Caricata la bici sul treno E adesso si va a direzione Pescara E da lì si resalerà l'Adriatico E si lascia a Lazio A dopo ragazzi Strano ma vero Il treno è arrivato appunto Bellissimo a Pescara Adesso non mi resta che andare a cercare Il B&B che ho prenotato E soprattutto andare a cercare Un posto dove mangiarmi Almeno 20 rosticini Il B&B che è essa Il bato era principale Il pubblico Di il chiave